Delocalizzare è la nuova programmazione. Non solo ditte aziende, anche i rifiuti sembrano poter partire dalla Sicilia alla volta di altri paesi europei. Le discariche sono sature, troppe le quasi 6.000 tonnellate al giorno di immondizia prodotta dai siciliani, di cui attualmente 4.000 vengono inviati esclusivamente all'impianto di Lentini. Proprio da qui, dalla società Sicula Trasporti, che gestisce la discarica, sarebbe partita una prima fase di sperimentazione e di delocalizzazione dei rifiuti, con 10.000 tonnellate che partiranno alla volta di una cementeria bulgara vicino a Verna. Costi maggiori rispetto a quelli richiesti ai comuni, fanno sapere dall'azienda, si tratterà successivamente con i bulgari per abbassare le tariffe, spingendo anche sulla vendita dei rifiuti come carburante. I privati non vogliono più aspettare il governo e a seguire l'esempio di Lentini potrebbe presto essere anche Trapani. L'impianto incontra da Borranea implode e ogni giorno decine di camion rimangono fuori dai cancelli, stracolmi di immondizie. La Trapani Servizi smentisce le voci secondo le quali l'assessorato Energia avrebbe avviato contatti con la Turchia per l'invio dei rifiuti, ma intanto la società avrebbe pubblicato un bando europeo ad hoc. Mentre si decide il da farsi, a Castellammare del Golfo il sindaco ha chiesto alla cittadinanza di tenere i rifiuti in casa con le strade degli altri comuni in vase dai cumuli. Dieci anni di mancata programmazione aprono adesso le porte alla delocalizzazione dei rifiuti. Non proprio un affare per i siciliani, visto che i comuni secondo una stima dovranno pagare un surplus di 80 milioni di euro l'anno per due o tre anni, soldi che saranno scuciti come da prassi ai cittadini.